La pallavolo azzurra conquista la semifinale del torneo olimpico maschile a Rio 2016. I ragazzi allenati da Blengini hanno battuto nei quarti di finale l'Iran con il punteggio di 3-0. Se gli avversari dovevano essere le vittime sacrificali si sono rivelati un ostacolo più duro del previsto. Infatti nel primo set hanno ingaggiato una lotta punto su punto con la nostra nazionale che ha chiuso con il punteggio di 31-29. Nel secondo e terzo parziale è partita decisamente a favore degli italiani con più muri ed una ricezione migliorata. Capitano Binarelli è stato schierato all'ultimo minuto dal coach Blengini. 25-19 e 25-17 gli ultimi due set che consentono l'accesso alla semifinale dove affronteranno gli Stati Uniti venerdì 19 agosto. Mimmo Siena, Speciale News.